Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi oggi. Allora, oggi sarà un video super 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 richiesto in cui farò un semplice, diciamo più che massaggio alla schiena, farò un po' di scratching, un po' di tracing e ho anche dei pennelli per fare un po' di brushing e ho anche una gecgino cinese per fare una specie di massaggio. Adesso raccogliamo i capelli, che lei ne ha tanti lunghi e poi iniziamo con la schiena. So che in molti sarete invidiosi della mia amica, però lei si lamenta sempre. Faccio una trezza. Ok. Ok. E li portiamo da una parte, così abbiamo un po' il collo libero. e cominciamo con un po' di scratching con le mie unghie sulla parte superiore della schiena, che secondo me è sempre quello un po' più sensibile ai grattini. non hai presi. E perché si stesse chiedendo perché sto parlando a bassa voce? la risposta è che questo è un video A-S-M-R. quindi questo è un video con lo scopo principale di provocarti i famosi prevedini, quelli che ad esempio i capelli si possono provare o si provavano quando da piccoli ci facevamo i grattini nella schiena, così. Ok. Ok. Adesso prima di provare a scrivere un po' di parole, facciamo un po' di disegno, facciamo un po' di onde del mare. questo non è un po' di fatto. il sole, con tanti tanti raggi. e una nuvola. come oggi, mi sentivo un po' monopoloso, soleggiato monopoloso. ok. O stesso respecting il fondo di problema è quello che di comunque vuoi, si��로 buttorlregiamo il fondo di nuovo aсяgare arrivare il fondo di utipi mondo. Isso più insieme alla chiamata nel settemale. È come raggi, certo questo aiutare negliこちら? Che citoyają le fornicità sociali e Asia, quindi noi sono gemmiate corrisi, ti piace? sì ok adesso proviamo con qualche parola ovviamente cominciamo con relax per essere molto ascoltati e L A X A A L A L A L L A 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 la cosa che ho mai visto di più sono i cantini qui sul collo quelli che poi scendono sono stupendi poi scendono sulle spalle, sulla schiena ok allora proviamo una parola vediamo, vediamo, vediamo suggerisce una parola Sveva S V E V S A la Sveva perchè non lo sapesse è un cane ed è in particolare una canellina che è di ranza S E T T E R E' un bel settore E' un bel settore ok allora condiviamo ora un libro che si chiama Le Stanze di Lavanda quindi andiamo un po' a scriverlo S L I S D A L Z A D L A V A N D A N A E poi abbiamo A L L L L L L L A-L-A-N-T ok ora andiamo a fare un po' di brushing anzi andiamo prima un po' con un massaggiatura ecco 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 Grazie. Posso la spalla? questo è un siluogo ho una serie di pennelli ho una serie di pennelli qui e ho scelto questi tre super morbidi uno due due e tre e andiamo a fare un po' di brushing andrò anche un po' sul colore è super morbido e vado un po' prima sui contorni della schiena in questo modo e poi vado a riempire come se fosse un colore delicatamente e e ok e 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 su 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 Sembra che la corte di Cirino di Casanliette. Usiamo anche l'altro, questi coperti sono bellissimi. Questo è molto più largo, non ho mai capito cosa serve questo pennello, tanto a me se lo può fare bene. E piang piang. pian 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 accostiamo seguendo l'informe della schiena ora andiamo ancora ora andiamo a fare un po' di scrittura sulla schiena un po' di disegnere cominciamo con un bel triangolo facciamo un quadrato più o meno cancelliamo facciamo un rettangolo cancelliamo facciamo un bel giro cancelliamo questa è una casa stilizzata a triangolo abbiamo una porta il regno in streglie le minuti artistiche sono veramente apprezzabili il cammino con del fumo e poi abbiamo l'erba tutto qui qui il tipico disegno dei bambini un albero e tutti i fiorellini un'altalena un'altalena poi facciamo due nuvolette e il sole non manca non manca allora io spero vi siete rilassati con questo video adesso le sciocco i capelli e vi auguro una buonanotte dopo lo rompo e si spade e si spade scegliamo l'attrezzo e intanto vi auguro una buonanotte una buona giornata spero che questo video mi abbia rilassato e mi abbia fatto quasi chiedere gli occhi quasi o del tutto buonanotte 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 sognator cali bello cali spero